Un nuovo incendio ha interessato Villa Elios a Sanremo, il secondo in tre giorni. La villa da tempo abbandonata è diventata rifugio per i senza tetto. Tre i clochard che si trovavano nello stabile al momento del rogo. Due di loro sono stati ricoverati, per fortuna non in gravi condizioni. Le fiamme hanno interessato buona parte del terzo piano dell'edificio e sono state spente rapidamente dai vigili del fuoco. Nel frattempo la pista ciclabile è stata chiusa al traffico e sul posto sono intervenute anche le pattuglie dei carabinieri e della polizia locale per ricostruire quanto successo. L'incendio sembra sia divampato tra i rifiuti accumulati dai senza tetto che occupano da tempo la villa, nonostante la proprietà abbia cercato di chiudere ogni via di accesso. Grazie a tutti.